ahahah aiaaa mi stai sputtando in bacia c'è una persona ma è nascosta ehi ciao a tutti io sono cinzia e oggi spesona di tiger vi faccio vedere tutto quello che ho comprato da tiger ciao amici benvenuti in questo nuovo video tema natalizio guardate è bellissimo il mio maglioncino vero c'è un intruso chiamate 119 va bene allora ho due pacconi qui qua ce n'è uno che è gigante uno che è ancor più gigante terrimo sono troppo felice perchè è molto natalizio partiamo da questo un portabiscotti sono un'anziana lo so guardate che particolarità che ha questo portabiscotti come si fa ecco gira quindi mi piace ora basta però basta dammi un biscotto un biscotto tieni non ce ne è biscotti ah l'hai comprato così vuoto poi li faccio io li faccio e li metto mi ricordo questi di qua perchè voglio decorare la mia stanza quindi aspettatevi il video dove decoro la mia stanza e ci saranno queste ghirlande di qua molto carine molto carine mi sono imbrogliate i capelli aiuto mi stanno piacendo tantissimo questi ghirlande con le bacche anche a me piacciono questi ghirlande vabbè abbiamo il disturbatore oggi per decorare sempre tadaaa ancora non li ho aperte non li ho provate non so come sono però sono delle luci di natale le luuuuci mi stanno piacendo tantissimo anche le pigne ah vai con la presa usb no vabbè no non così sto stando la presa si sono accese che belle guardate si vede che sono luminose si non ti piacciono dai va bene posso staccare puoi staccare mi devi disturbare ancora o hai finito non mi disturbare tu sono i nastri per fare i regali blu e dorato che li ho finiti perchè ho fatto tanti regali a questa persona di qua nascosta qui dietro e ho finito il nastro yeee quindi la cosa non natalizia è questa ho preso una tazza autorgirevole è questa la dobbiamo provare questa la dobbiamo provare quando? ora ah c'è il tappo pure così con le cose tipo star box con il pochino perchè è che non l'ho dato così quando sono emozionata alzo il volume allora sono palo siete pronti? ma non ci siamo capiti di mettere il latte e il caffè lo togliamo si ciao vabbè comunque è anche bella a prescindere eh for lazy coffee lovers no io non sono un amante del caffè ma va bene altra cosa non natalizia ma molto bella tadaaa una scritta love vabbè un come si chiama? un led ecco un led con la scritta love curiosi? curiosi del rumorino? tadaaa tadaaa una penna natalizia che bella è quella che si mette alla pecorella no? si sono una pecorella io me la metto nei capelli che bello ok ho i capelli da pazza però poi ho comprato questi ragazzi sono dei mega post it sono dei post it giganti provalo tieni ma la penna dell'ipad questa non funziona ma questa penna fa troppo rumore ciao bvb lo prendo lo stacco è di appiccicoso quindi lo posso appiccicare vieni qua ok funziona dai che bello tadaaa c'è questo my christmas recipe mi devo scrivere le ricette amore sei felice che mi scrivo le ricette e poi ti cucino? ma non sai cucinare non è vero le mie ricette da condividere vedi? da condividere pure dai shopping list ti scrivo quello che manca a casa e tu me le compri grazie prego altre cosuccia di natale molto bella lo farò sempre nel video dove decoro la stanza è un alberello di natale è in non so se vetro o qualcosa del genere si addobba con le palline e c'è anche le lucine quindi è bellissimo oh oh qui c'è una busta sorpresa che vedremo alla fine del video mentre da questo lato abbiamo ci sono le cose da mangiare finalmente ci sono davvero questi sono già aperti sono gli zuccherini tieni gli zuccherini non gli piacciono neanche a me piacciono non li ho presi per i miei nipoti poi guarda che c'è qui questo ti piace questo è bello e lo possiamo provare cinque bel cinque bel questo è il bersaglio è una cosa di cartone molto omnia la pistola ci sono il non disturbare in tutte le lingue del mondo non molestar non molestar oh mio dio e dove è non disturbare? scusa non disturb non disturbare provo a centrare il bersaglio no tieni non disturbare se ci fate caso questo qui è in bagno quindi si usa quello di lì non disturbare ecco perfetto non disturbare non funziona ah ecco il carico adesso che fai? prova per mare ma dove è andata? no no ti sfadangola lì no no ma non funziona perchè? me l'ho tosta io non ti do le munizioni vabbè non mi sparare a me però vabbè sono morbidi non fanno male dai ma io ho sparato lì ahia funziona è il bersaglio ahahahahah ahahahahah ahia ma che c'entro io vediamo se si attacca dai è caduto vi faccio vedere anche l'altro che c'è qui altro che c'è qui dentro guardate cosa ho comprato il sogno di una vita eccolo qua tadaaa questo è quindici vabbè un salvadanaio a forma di maiale finalmente peppa pig ecco di qua ma questo si deve rompere quello si deve rompere si no ci sono quattro buchini quindi non no l'ho entrato tutto dentro no io lo sissendo dammi devi farlo uscire vabbè comunque no ah mi andiamo con la busta sorpresa che c'è scritto qui ragazzo non so se è riferito al ragazzo nel senso giovane adulto oppure al ragazzo come maschio vabbè se è per maschi glieli regalo a lui l'hai sistemato? si l'hai sistemato bravo un quiz vediamo se riconoscete chi è Cinzia effettivo ovviamente io sono Cinzia non questo peppa pig è questo amore amore c'è da mangiare no vabbè non ci credo tieni che lo regalo a te questo non mi piace il termometro porta spazzolino questo mi può servire questo non ti piace scusa questi servono ma il maschile scusa mi c'è scritto qua ragazzo ma io pensavo un ragazzo nel senso di giovane mi è costata 3 euro questa cosa grazie 3 euro posso aprire no? puoi aprire un arbitro comunque 3 euro diciamo che hai fatto un affare ma per niente 3 euro baby i piatti questi mi fa piacere che ti piacciono no? cioè questo è il contenuto della busta sorpresa una delusione ragazzi l'anno scorso me ne hanno data una ed era bella ma sono quelli scoppi aiuto momento smr mi stai sputando in bacia esmeralda sto registrando l'avevo capito appena c'era lei e ce lo dovevo fare per forza ciao amore mio ciao buona registrazione ciao 3 euro un affare eh dai almeno queste comunque in tutto ciò ho speso 100 euro e questa l'abbiamo comprata io e lui è un momento smr che cos'è l'smr? è un momento spquot ma che dici smr va bene ragazzi detto ciò il video è finito spero tanto vi sia piaciuto io e il mio maglioncino con com'è che si chiama? il pupazzo di neve vi salutiamo lui non vi saluta perché è monello no 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 ci vediamo ci vediamo al prossimo video cioè domani perché ogni giorno c'è un nuovo video ciao ciao ragazzi bevi bevi tantissimo ciao 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 ciao